nazionale di settembre che sarà molto impegnativo quest'anno per la partecipazione di alcuni rappresentanti dell'American Art, in particolare Van der Rotten che è il responsabile della formazione in Europa dell'American Art e a sede a Bruxelles. Poi contemporaneamente ci sarà Philippe Ritter che dirige il centro di aritmologia di Bordeaux e porterà anche alcuni istruttori con lui che fanno parte del Sainte-de-France e sarebbe il corrispettivo del 118 italiano. Con cui anni fa facendo un corso insieme a Parigi c'era anche Alessio, c'era Montironi, c'era Roscio, eravamo molto più giovani, eravamo otto anni di meno, però fu una cosa molto piacevole alla Maison de la Chimie dove organizzavamo un corso per oltre 100 persone che fu manutati proprio dai medici e infermieri del Sainte-de-France, quindi facciamo anche delle simulazioni avanzate. Bene, detto questo che ormai è la storia, guardiamo tutto. Allora, lo start è giovedì mattina nel 2024, si partirà nell'aula magna con il corso ILS che è un intermedio tra il PLSD e l'ACLS, però è più avanzato, che terminerà alle 13.30. In aula A, in parallelo, era fatto un corso Eco-Past, qua ci sono ancora dei posti lì, lo dico ai consiglieri che sono interessati nel nostro centro ospedaliero perché c'è ancora la possibilità di iscrivere qualche medico a pagamento. Il costo è 250 euro e dura una giornata.